Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein di violenza sessuale. Il suo fidanzato, la star televisiva culinaria Anthony Buren, si è unito con entusiasmo alla lotta. Leggi anche Caso Weinstein, Asia Argento pubblica la lista delle donne molestate, noi, le 82 vittime. Leggi anche Cannes, Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il festival, stuprata qui. Ma nei mesi che seguirono le rivelazioni su Weinstein, Asia Argento si è accordata per pagare 380 mila dollari al suo accusatore, Jimmy Bennett, l'attore bambino che interpretava suo figlio in un film, che disse di essere stato aggredito sessualmente in una camera d'albergo della California anni prima, quando gli mancava poco per compiere 17 anni. Asia, invece, aveva 37 anni. E l'età del consenso in California tra maggiorenni e minorenni è 18 anni. A rivelarlo è il giornalista Kim Severson sulle pagine del New York Times. Il selfie incriminato una vicenda che lo ha segnato profondamente e che avrebbe influito negativamente sulla sua carriera. All'epoca dei fatti Asia aveva 37 anni. Bennett sul grande schermo ha interpretato il ruolo del figlio dell'attrice in Ingannevole e il cuore più di ogni cosa, pellicola del 2004. Tra i documenti citati dal quotidiano statunitense ci sarebbe un selfie datato 9 maggio 2013, che mostra i due a letto insieme. Come parte dell'accordo, scrive ancora il New York Times, Bennett, che ora ha 22 anni, avrebbe ceduto la fotografia e il copyright ad Asia Argento. Maxi risarcimento dalle carte risulta che il giovane avrebbe chiesto un risarcimento di 3,5 milioni di dollari. Asia avrebbe accettato di pagare 380 mila dollari a Bennett in un anno e mezzo, con un pagamento iniziale di 200 mila dollari fatto ad aprile. I giornalisti del Times, si legge ancora sul quotidiano, hanno provato ripetutamente a contattare l'attrice per un commento sulla vicenda ma non è stato possibile. Anche Bennett, che vive a Los Angeles, non ha accetto di essere intervistato. Jimmy continuerà a fare quello che ha fatto negli ultimi mesi e anni, ha detto il suo avvocato, concentrandosi sulla sua musica.